Vamo amici di Unpacked per 2, bentornati a un nuovissimo video, oggi andiamo a vedere il secondo teaser trailer di Garden of Bambam 7 Un occhio? Oh, eh? Bambam! Bambam, ma di cosa ha fatto? Di granito? L'hanno conciato? E poi ha detto qualcosa... Io non penso che tu capisca i guai in cui ci troviamo adesso Chi sono loro? Sono, sono... Rowena? Ah, chiunque ti stesse aiutando ora è tipo morto o cerebralmente morto? Ok, Citigun, John, Citigun... Ah, peggio della morte! Sono quelli che ci sono sul tre... Uuuuh, sull'immagine Ma com'è diverso! Beh, bello! Si vede migliorato! Nessuno qui sembra sentire niente Ehi, Chef Tolster! Attenzione, Chef Tolster, non si sente granché bene Non mi fa molta paura, però... C'è una data? O... Sette, vediamo quando esce? Vediamo? Non c'è? No! No! Ok, allora adesso ce lo riguardiamo con i sottotitoli Perché prima non li avevamo messi E ovviamente analizziamo tutto quello che c'è eventualmente da analizzare Però vorrei precisare prima che praticamente gli esserini depressi che vediamo all'interno di quel frame Sembrano tantissimo L'immagine teaser che c'è su Garden of Bambam 5 e su Steam Quindi, boh! Allora, qua... Allora, All'Old Moth Quindi Bambam li trattiene Sappiamo che alla fine dell'ultimo capitolo Bambam si era messo tra noi e i nostri nemici, i nostri salitori Sì E ci aveva permesso di andare giù Dovevamo cercare... Per il chirurgo Siringian, ok Dovevamo cercare lui Ah, sì E Surghan, che non so mai prologgiare Insomma, a via della pronuncia opinabile Dovevamo cercare quel nuovo personaggio che abbiamo visto Quindi adesso abbiamo... No, stiamo scendendo? Stiamo scendendo giù a cercare lui Ancora di più perché ovviamente i giochi senza ascensori Si va sempre in ascensore Lui ha preso un sacco di botte e sembra anche morto male Ma soprattutto... Fermo un attimo Fermo, fermo, fermo No Che cosa? Più indietro Ah, ok Allora, io ho un'opinione di Bamban Ok, io ho l'opinione di un Bamban venoso e gommoso Perché adesso ho un Bamban fatto di marmo? Non era venosissimo Bamban Ma smettila Era più venosissimo Josh Oppure Bamban diventava venoso quando andava in Berserk No, 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 è sempre stato venosissimo Poi te lo faccio vedere Sì, ma le vene erano una caratteristica del bivenium Sappiamo che le vene venivano date dal bivenium Va bene, ma qua sembra di granito Sembra che sia sempre stato un sasso Sembra morto Magari nel momento in cui un personaggio muore Magari diventa così Questa sembra quasi una sorta di argilla che c'è sotto Però io penso sia ghi venimo Anche perché c'è la poccia azzurra sotto Però è super morto Comunque non ha più un occhio A meno che ce lo facciano rispuntare Poi dopo con la benda molto più cool Molto più preso bene A me sembra piuttosto morto Però la faccia da pirla ce l'ha sia da morto che da vivo Quindi vediamo Allora non penso tu capisca il guaio in cui siamo adesso E loro Guardalo Sono esterrefattissimi di vederci proprio Non credono ai loro occhi Eccoli qua Che poi stanno giocando a carte Ma è una cosca clandestina Dove se vinci ti becchi i chupa chupa La loro società sotterranea Sono un po' trisci Fra con la panna buonissimo Buonissimo è migliore Quindi now Ora For all we know Per ciò che ne sappiamo Lui è stato anche ubriaco Per ciò che ne sappiamo Esatto Chiunque ti stesse Chiunque ti abbia aiutato fino adesso È morto Oppure Sono io O brain dead Oppure morto cerebrale Tipo cioè proprio È lì Come un vegetale Un po' come me la madre Sembrano un po' loro Però Però ascolta Questo è tipo È tipo un bar Ma loro si nutrono di zucchero Praticamente Perché c'è pieno di chupa chups Eh sì ma è un bar Capisci Mi fa troppo ridere È un bar che tra l'altro È stato anche arredato con gusto Direi che siamo Tornati al punto In cui Abbiamo cominciato Ah Da sitinghion Da sitinghion Sitinghion che Suona molto come siringhion Oh Originale baby No Però Potrebbe essere il punto Uno dei punti In cui magari venivano creati Da cui tutto è cominciato Potrebbe significare Che siamo nel posto In cui veniva data vita Agli esperimenti Wow Mi piace come tu sia molto serio Sì sì no Tu sei una demente Ma è molto peggio Lui 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 Depresso Lui l'ho preso malissimo Non ci voleva stare Sitinghion Non c'è nulla in questa città Se non Paura E oscurità Ok Chi c'è dietro Attenzione Questa secondo me Ecco perché il nostro telecomando C'ha due pirulini Perché uno secondo me È il nostro telecomando Quello classico Il nostro amico di sempre Mentre invece Questo sarà una seconda funzione Che ci permetterà di Mandare in avanza scoperta Speriamo in maniera Fattibile Il nostro secondo drone Speriamo di usarlo Con dei comandi normali Per favore Per favore Eferic Brothers Però è bellino questo Sì è molto bello No one here seems to feel anything Nessuno qui sembra Sentire Nulla E qua c'è qualcuno E diciamo Diciamolo Partner Sappiamo che è Sheriff Toaster E quindi esatto È Sheriff Toaster Che è molto incazzato E anch'io mi sento molto euforico No Che carini Sono io Non si sente Veramente euforico Sheriff Toaster E hanno scritto euforico Incredibile Allora c'è qualcosa qui sotto Magari è una caratteristica del posto Che porta Gli esperimenti magari a deprimersi Magari non erano così Come li abbiamo visti Magari prima erano fatti In quella maniera qua E a forza di starli sotto Sono diventati quegli strani esseri Perché dici che la bocca È l'inizio di questo Questo Tutti un po' tristi E qua Either Oh Ok e qua Quello a me sembra il braccio di Siringhion Infatti stavo dicendo Solo che era Era mica rosso Però Siringhion era rosso Ma sappiamo che Nel 6 Quando diventavano viola Significa che Erano stati Alterati Diciamo A me questo trailer Vi dico la verità Mi dà la stessa sensazione Dell'ultimo che abbiamo visto Però Essendo che I trailer prima Erano fatti male Ma il gioco non era male L'ultima volta Abbiamo visto un trailer buono Il gioco è stato un po' Diciamo che qua C'è un po' paura E poi ormai Faccio molta fatica A rimanere piuttosto serio No vabbè Allora c'è sempre una sorta di meme Quando guardiamo Bambà Lo sappiamo tutti Ce ne facciamo una ragione Però cerchiamo sempre Di trovare del positivo Comunque Perché in qualche modo Anche loro Sono riusciti a trovare Una loro quadra Insomma Dare un senso A quello che sta succedendo Nel 6 Invece c'erano un po' Di cose Buttate di assieme C'era l'ultimo nemico Che abbiamo trovato Che spuntava Un po' fuori da nulla Senza un background Senza niente Che magari verrà approfondito Qui Speriamo Non lo so E che ci sono tantissimi personaggi Ne hanno inseriti tanti In realtà Ne hanno approfonditi pochi Però Boh Ragazzi Noi come al solito Speriamo che Gli Euphoric Brothers Ci illuminino E ci facciano passare Un'ora Due ore Tre ore Divertenti Anche perché Inizio ad amare Flashback Tantissimo Sì no E Flashback Sono un punto forte Del gioco Assolutamente Per adesso Sono una delle cose più belle Quindi per ora Il trailer non è male Loro mi perplimono parecchio Ma sono tipo così Tipo Giochiamo a carte Come fai a giocare a carte Fai così Splac Secondo me Erano Diversi Ah dici che poi Dopo il prodotto Della depressione Della sitiglia E poi a forza Perché c'è qualcosa Che li porta a diventare Così tristi Ce lo dice Sheriff Toaster Che chi sta qui Non sembra sentire nulla Non è euforico Non è più contento Insomma comunque Non riesce più ad essere felice E magari Vedi che già Ha cambiato Mi sembra espressione E magari potrebbe diventare Anche lui Così triste E magari sia un primo passo Per diventare poi In quel modo lì Ragazzi Questa è la nostra analisi Del trailer di Garden of Bambam 7 Non c'è ancora una data Quindi non sappiamo Ovviamente quando lo rilasceranno Il che fa ben sperare Come sempre Che non ci sia Dei dati In Bambam Perché noi Più tempo ci mettono Meglio è Però sappiamo Che sicuramente Lo rilasciano In una data In cui noi saremo A Luca Comics In cui saremo La Games Week In cui non saremo Presenti a casa Segnatevi le fiere Probabilmente uscirà In uno di questi tempi Grazie mille Di aver visto questo video Condividetelo Se vi è piaciuto Lasciate un like E soprattutto Iscrivetevi al canale Grazie mille E noi ci vediamo A un prossimo video Grazie mille